ciao amici basta diete basta privazioni oggi ragioneremo al contrario ebbene sì esistono dei cibi che staziano a lungo e sarà più facile stare lontani da snack e spuntini disordinati quindi più calorie non vuol dire maggiore sazietà no non è proprio così calorie e sazietà non vanno a braccetto cibi ricchi di proteine fibre e acqua tengono lontana la fame per ore e costruiscono muscoli e massa magra e allora perché più mangio più ho fame te lo spiego subito dipende dall'indice glicemico del cibo la velocità con cui aumentano gli zuccheri la glicemia nel sangue maggiore l'indice glicemico più il corpo produce ormoni che stimolano l'appetito per esempio l'insulina carboidrati pizza dolci succhi di frutta pasta aumentano la glicemia e di conseguenza la fame ecco invece i sette cibi che allontanano la fame e prolungano il senso di sazietà se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace altri nuovi video 1 semi di zucca perfetti come spuntino sono ricchi di grassi buoni e fibre 2 mandorle ricche di fibre proteine vegetali e acidi grassi essenziali omega 3 che favoriscono il senso di sazietà 3 avena fibre a go go molto sazianti 4 spinaci notevole apporto di fibre che riempiono 5 riso integrale con meno zuccheri e più fibre del riso bianco 6 lenticchie ricche di proteine riducono la fame 7 lattuga composta prevalentemente di acqua e fibre riempie e toglie la fame quindi attenti agli zuccheri nemici della sazietà per approfondire iscrivetevi anche alla mia pagina facebook simona vignali naturopata e al gruppo trendy e sani per sostenere il mio lavoro restare aggiornato e chiedere consigli naturali ora vi svelerò tre trucchi per aumentare il senso di sazietà 1 masticare piano aumenterà il senso di sazietà 2 iniziare il pasto con la verdura o con una vellutata calda con fibre e acqua che rallentano il vuotarsi dello stomaco 3 non mangiare velocemente ci vogliono circa 20 minuti per arrivare a sentirsi sazi per vedere tanti altri video sulle migliori strategie naturali iscrivetevi al canale è facile con un click così in descrizione trovate il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook vivi consapevole e vivi meglio a tutti i miei libri ed ebook